Siamo molto contenti di stare qui, di portare la nostra tradizione qui a New York. Noi siamo un'antica pizzeria napoletana, vantiamo 95 anni della stessa gestione. L'impasto è sempre lo stesso, tramandato così dai nostri genitori, dai nostri avi. Abbiamo un bel po' di affluenza, come puoi vedere alle spalle, c'è un po' di fila, però ci difendiamo. E apprezzano molto la nostra cucina italiana, pizza, pizza fritta, che per loro non tutti la mangiano, la montanara, non tutte le pizzerie la fanno. Qua sono abituato alle slice, quelle grosse, però rispondono molto molto bene.